Massimiliano ci arrocca che lui è un esperto di vergogna. Posso superare la vergogna di raccontare le mie miserie? Insomma, quello che sappiamo tutti, ci vergogniamo di qualunque cosa. Ma si può, Massimiliano, oppure alla fine qualcosa ce la terremo per noi? Diciamo che mentre si scrive, si dovrebbe, si deve, perché superare la vergogna e non preoccuparsi del giudizio di quello che stiamo raccontando, degli altri, su quello che stiamo raccontando è fondamentale, perché questo non riguarda solo l'audiografia, riguarda tutto, riguarda per esempio la vergogna di quello che fanno i nostri personaggi, non è soltanto quello che abbiamo fatto noi o quello che ci è stato fatto. Quindi la vergogna è sicuramente un freno ed è un freno che va superato, perché superare la vergogna non c'è più nessun altro limite alla scrittura, perché tutti possono imparare a scrivere, però a non vergognarsi è un po' più difficile. Molte volte io faccio questa domanda, chi si vergogna, chi pensa mai mentre scrive, e se questa cosa la leggesse il mio capo ufficio, o il mio collega, pure mia madre, e tutti un po' arrossiscono anche se questa cosa non succede. Quindi assolutamente sì, la vergogna è un freno, è qualcosa assolutamente da superare. Nell'autobiografia chiaramente è una fatica maggiore, perché sicuramente si toccano gli animi e le sensibilità di qualcun altro. Dopodiché raccontare non è un reato, è qualcosa che ci spetta di diritto. Farmacia Letteraria, un podcast della Scuola di Scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale. 351-877-9461 Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille.